Cilento TV Assessore Mario Scarpitta che tenendo fede a quanto a suo tempo dichiarato ha deciso di utilizzare per questa volta i soldi che gli competono come indennità di Assessore e di spenderli per ripulire il parco giochi per i bambini. Le immagini che vi mostriamo documentano il grado di abbandono in cui versano questi siti. Come televisione torneremo con le nostre telecamere quando i lavori saranno stati completati per constatare e dare modo soprattutto alle mamme di poter apprezzare la validità dell'intervento voluto dall'Assessore Scarpitta. Da notizie di Corridoio ci viene riferito che l'intervento di riqualificazione prevede successivamente la sistemazione del verde in collaborazione con il delegato all'ambiente Domingo Saturno. Inoltre l'intervento prevede la sostituzione dei giochi esistenti, la verniciatura e tinteggiatura di tutte le componenti, arredo, cartelli che indicheranno un regolamento di utilizzo. Pare inoltre che Scarpitta abbia previsto lo stesso intervento in zona Calanca. I lavori saranno consegnati prima di Natale per la gioia di tutti i bimbi e delle loro mamme che potranno così portarli in un luogo sicuro e più accogliente. La data di consegna non è sicura ma si farà il possibile per terminare i lavori entro l'8 dicembre. Al telefono l'assessore Scarpitta da noi contattato non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma ha assicurato che parlerà solo a fine interventi. Grazie a tutti.